hola a todos benvenuti in un nuovo video oggi video spesa da lidl ho fatto una spesuccia da 68 euro e 24 e adesso vi faccio vedere cosa ho preso ho preso una bella anguria striata poi i freschi ho preso questi tramezzini integrali con salmone nonna mia poi ho preso queste merende simil fetta latte merendina latte latteria ci sono sei pezzi poi ho preso la scamorza affumicata questa qua meridio buonissima un po senza prenderla questo invece non lo conosco yogurt da mezzo chilo milbona peach and passion fruit yogurt speriamo non ci siano i pezzetti che sia liscio faccio sapere le sottilettine anche queste milbona toast light 10 pezzi 200 grammi poi ho preso le mitiche e buonissime mozzarella queste quali lo biglio da un chilo sono veramente buone 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 poi c'era in promo la sfoglia e ne ho preso tre pezzi questa qua rotonda pasta sfoglia rotonda chef select dolce salate acqua cambiato la confezione ho cambiato all'aspetto non so perché era da un po che non facevo salto da lì dove fuori mano mannaggia poi la pancettina cubetti leggermente affumicata questa non capisco cosa sia pancetta cubetti dice quindi semplice semplice e poi ho preso il polletto anche questo era in offerta il cosce di pollo una bella confezione da un chilo e cinquanta speciale grigliata c'erano delle confezioncine x iselle che bordello che sto facendo con la busta e poi ho preso le spinaccine di tacchino e pollo con spinaci anche queste erano in promo poi ho preso qualche prodottino per la pulizia della casa questo qua da provare doppia v5 e gel lavastoviglie tutto in uno ultra power fino a a 37 lavaggi con enzimi senza fosfatti efficace già a cicli brevi vediamo quante 750 quindi un bel boccione poi ho ricomprato i fantastici salva slip sempre questi qua da 45 pezzi con aloe vera distesi po allergenici mi piacciono tantissimo poi ero curiosa di provare questo qua perché ho finito anche il prodottino che utilizzavo per pulire il bagno quindi ho detto lo prendo il liso formazione bagno disinfettante anticalcare quindi vediamo un po come sarà poi avevo terminato da un po anche le i swiffer originali ho trovato questo adesso li provo e quindi poi vediamo la prima volta mi pare che li prendo sono acqua pur 20 pezzi e pannicatura polvere multifunzione poi ho preso un dopo puntura in roll on questo qua stack stack anche per meduse con aloe calamì e camomilla senza parabeni alcol e ammoniaca quindi vediamo un pochettino come sarà poi ho ripreso queste salviette w5 multi surface oddio spero di non girare ogni tanto l'inquadratura perché ogni tanto ne combino una delle mie lemon mi piacciono tantissimo sono tanta pezzi profumatissime fungo non piacciono veramente tanto 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 poi acqua pur spazzola adesiva leva pelucchi questa mi serviva le mie adorate spugnete per lavare i piatti queste w5 secondo me sono le migliori che abbia mai provato sono fantastiche confezioncina da sei pezzi e poi ho riacquistato anche questi panni che mi sono piaciuti tantissimo anche questi w5 anti odor cleaning clothes vediamo se c'è panni multi uso anti odore cinque pezzi ok quindi tutti colorati poi passiamo da questa parte ho preso i biscotti perché io imbusto in base alla alla categoria quindi faccio i fior di panna rial forno quindi biscottini senza olio di palma simil macine simil gocciole anche questi senza olio di palma rial forno però i fior di cioccolato due belle confezioncione da 700 grammi luna poi ho preso il tonno questo qua è nixe questo all'olio di oliva e poi l'ho preso anche al naturale perché a me piace molto anche al naturale questo è tonno a pinne gialle naturale poi confezioncina multipla da cinque pezzi di questo succo solevitace drink poi ho preso un altro succo 100% frutta questo d'ananas solevitace e poi ci sono ah sono scappati i cetrioli e due pere abate una delle due marmellate di ciliegie perché questa marmellata è troppo buona questa mari bella le ciliegie è buonissima è buonissima buonissima ecco qua qua c'è l'altra veramente grandiosa poi confezione da 10 di uova fresche medie che cos'era? prodotto in italiano dice solo 10 uova poi pan carré questo certossa i muffin xxl mckennedy che sono buoni 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 molto buono molto buoni quindi non ho capitato costavano anche poco una confezione di caffè questo bella rom espresso bar due confezioncine xxl una di funghi questi qua e una di carote eccola due confezioncine ecco l'è un altro scontrino vecchio due confezioncine di pomodori mi si è anche rotta un unghia mannaggia dopo me le devo sistemare poi pomodori ciliegini poi ho preso peperoni rossi peperoni gialli e un sacco di zucchine perché sono troppo buone le uso tantissimo quindi una super bustina di zucchine e questa è la piccola spesuccia che ho fatto oggi da Lidl ma sono molto contenta che porca miseria fuori in mano altrimenti farei più spesso un salto ma ci si organizza grazie io spero di avervi tenuto un pochino di compagnia che il video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti mi raccomando che ne pensate se avete provato qualcuno di questi prodottini fatemi sapere come vi siete trovate spolliciate per supportarmi se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video attivando la ding dong grazie per aver visto il video io vi mando tanti tanti super baciotissimi e se vi va ci vediamo al prossimo ciao